Musica Agropoli, l'ospedale civile dallo scorso luglio non è mai stato funzionante. Disabilità e politica, città da adeguare alle esigenze delle persone affette da disabilità, lavoro di ascolto del territorio dai referenti della Lega. Montesano sulla Marcellana, nuova farmacia nel centro storico, ieri sera l'inaugurazione. Montesano sulla Marcellana, recupero dello scialandro, pubblicato l'avviso pubblico. Teggiano, dopo 26 anni, un agosto senza costanza, la Proloco prepara tante sorprese. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con la nostra informazione. Si torna a parlare dell'ospedale di Agropoli a pochi giorni dal ferragosto. Le notizie non sono buone. Dall'apertura allo scorso luglio non è mai stato funzionante, ma vediamo i dettagli. A pochi giorni dal ferragosto nel Cilento si ritorna a parlare dell'ospedale civile di Agropoli in una storia che può essere definita come una delle ultime pagine più tristi per il territorio cilentano, ancora una volta illuso da promesse e parole di chi dovrebbe garantire e lottare per i diritti, soprattutto sanitari dei cittadini. L'ospedale agropolese, in sostanza, dalla riattivazione dello scorso luglio non è mai stato funzionante. Numerosi disservizi e le pessime esperienze di chi ha provato in vano ad usufruire delle prestazioni del nosocomio, che al momento garantisce ben poco, fuori dalla rete dell'emergenza, pieno di personale in Alpi ben pagato e con pochi reparti attivi. Ovviamente i reparti tanto decantati dai politici locali, regionali e provinciali e da chi faceva di questa riapertura un vanto personale come la rianimazione e le sale operatorie hanno il motore spento. Al momento l'ospedale civile garantisce la minima assistenza ai cittadini ed è ancora legato fortemente a Vallo della Lucania, dove ci si deve recare per la maggior parte delle situazioni. Oltre all'assistenza, però, gli inconvenienti sono registrati anche alla struttura. Uno degli ultimi è il guasto all'impianto di climatizzazione avvenuto qualche giorno fa. I motori sono risultati insufficienti a garantire una copertura in tutto il presidio, ora ampliato. L'uso intenso ed anche la vecchia datazione di essi hanno portato l'ospedale di Agropoli a restare senza aria condizionata, rendendo impossibile le attività in alcuni reparti nelle ore più calde. A quanto pare il guasto dovrebbe essere risolto a breve con la sostituzione del motore dell'impianto, ma resta l'amaro in bocca per le sorti che sta affrontando questa struttura vitale per Agropoli e il Cilento, che ancora una volta si è confermata terreno fertile per chi ha ambizioni politiche, soprattutto in tempi di elezioni regionali. Anche chi si è aizzato a paladino per la salute dei cilentani alla fine ha mostrato i propri interessi politici nelle azioni compiute. E questo è uno scempio per un territorio già troppo sfruttato, che chiede solo il rispetto dei propri diritti come una sanità efficace e funzionante. Nella scorsa settimana i referenti della Lega sono stati in visita nel Salernitano per cercare di raccogliere le istanze, le richieste delle famiglie e delle persone affette da disabilità o che comunque devono fare conti con patologie disabilitanti più o meno gravi. L'ex ministro per la famiglia e per le disabilità, l'onorevole Alessandra Locatelli, e il coordinatore provinciale della Lega, Nicola Sesposito, la scorsa settimana hanno incontrato i referenti delle associazioni che supportano le famiglie di persone affette da patologie limitanti delle disabilità personali e hanno anche avuto modo di visitare il territorio salernitano e conoscere gli aspetti e le aree che si rivelano inaccettabili alle persone affette da disabilità. Fase di ascolto e di conoscenza del territorio salernitano, che ha portato a comprendere come, seppur tanto è stato fatto, c'è ancora però tanto da fare per poter perseguire un obiettivo di abbattimento delle barriere architettoniche. C'è tanto da fare in tutta Italia sul tema dell'accessibilità e della disabilità. Certo è che la Campania è un territorio bellissimo, si poteva fare già qualcosa in più, almeno per adeguare qualche struttura, adeguare qualche città, perché fosse più a misura di persone e non rimanessero segregate in casa. Speriamo di cogliere questa occasione, che sia l'occasione giusta per rendere giustizia a una terra meravigliosa e a cittadini che sinceramente hanno un entusiasmo che io faccio fatica magari a volte a trovare in tutti e che deve essere valorizzato per il futuro. La Lega è un partito, non è né di destra né di sinistra, è un partito di territorio. Essere di territorio significa ascoltare quelle che sono le persone. Matteo Salvini ci ha dato sempre un grande indirizzo che è quello di ascoltare le persone e quando è stato al governo le cinque cose che aveva promesso, cinque cose ha fatto. Ascoltare le persone e fare proposta, questo significa fare politica per noi. E l'auspicio per questi regionali? L'auspicio per questi regionali è sicuramente ottimo. Finalmente sta calando giù la maschera di De Luca, abbiamo visto quello che ha combinato durante il coronavirus, 18 milioni di euro spesi quasi inutilmente perché gli ospedali anti-covid manca il collaudo e non possono partire. Diciamo che la magistratura deve fare il suo corso, però abbiamo visto che la gestione De Luca come sempre è pessima. A pochi giorni dalla presentazione delle liste per le prossime elezioni amministrative per il rinnovo dei consigli comunali, arrivano le dimissioni di un consigliere comunale di Pertosa, comune chiamato alle urne il prossimo 20 e 21 settembre. Si tratta del consigliere Vito Panzella che nelle scorse ore ha presentato la lettera di dimissioni. Secondo quanto emerge, pare che la decisione non sia arrivata per divergenze all'interno del gruppo di maggioranza, ma per una scelta derivante anche dalla sua vita che lo vede legato alla città di Polla dove vive e lavora. A tal proposito pare siano emerse notizie che lo vorrebbero candidato tra le fila di una delle liste in campo a Polla per il rinnovo del consiglio comunale. Elezioni rese necessarie a seguito del decesso del sindaco in carica Rocco Giuliano. Pare che a Vito Panzella sia stata richiesta la sua candidatura, ciò avrebbe quindi reso necessario le dimissioni di consigliere a Pertosa, dato che ricoprendo tale ruolo non avrebbe potuto partecipare alla competizione elettorale in un comune diverso da quello dove ricopre appunto questo ruolo. Il sindaco di Rofrano, Nicola Cammarano, ha rassegnato le sue dimissioni, ha scritto una lettera al segretario comunale Francesco Minardi motivando la sua decisione con l'impossibilità di proseguire con serenità il mandato elettorale. Il quadro politico che si è determinato, scrive, ha annullato ogni mio possibile ulteriore sforzo finalizzato ad avviare un'azione corale determinata che potesse affrontare con i necessari tempi rapidi l'avvio di tanti nuovi cantieri, oltre ai tanti che già abbiamo avviato. Dopo aver elencato i lavori svolti e le attività messe in campo durante l'emergenza Covid, Cammarano ha ricordato gli importanti progetti avviati riguardanti il dissesto idrogeologico. Approvati i progetti preliminari, scrive, «Ho dovuto bloccare il lavoro dei tecnici incaricati perché non godevano della simpatia del vice sindaco, purtroppo prendo atto che questa esperienza amministrativa va chiusa e subito». Così ha concluso. Voltiamo pagina, Padule è ufficialmente tra le 28 città tra le quali sarà scelta la Capitale Italiana della Cultura 2022, una notizia accolta con favore dalla comunità montana Vallodidiano, come afferma il presidente Raffaele Accetta. Vediamo. Padula è ufficialmente tra le 28 città tra le quali sarà scelta la Capitale Italiana della Cultura 2022, una notizia accolta con favore dalla comunità montana Vallodidiano. Il presidente dell'ente Raffaele Accetta afferma di condividere e sostenere l'iniziativa che per il comune di Padula rappresenta, come hanno più volte detto, un sogno e una sfida. A dicembre è stata avanzata la candidatura, a luglio è stato consegnato il dossier relativo al progetto di promozione e valorizzazione culturale del territorio di riferimento. Ora si attende ottobre per un'ultima cernita tra le candidate. Intanto a Padula arriva l'appoggio della comunità montana che, commenta Accetta, ha da sempre creduto nelle potenzialità della cittadina valdianese attraverso l'inserimento sia di Padula che della Certosa di San Lorenzo in tutta la programmazione che nei decenni ha sviluppato dal pit Certosa con il grande attrattore culturale fino alla strategia delle aree interne, che è solo l'ultimo grande progetto di sviluppo locale a titolarità della comunità montana Vallodidiano attraverso il quale abbiamo, dice Accetta, una dotazione di circa 18 milioni di euro che ci permette di investire e innovare in settori chiave della nostra società quali mobilità, scuola, sanità, agricoltura, in particolare in attività di pianificazione turistica e organizzazione del sistema turistico della destinazione Vallodidiano che ovviamente sarà importante per il territorio che ospita la Certosa. La candidatura di Padula, continua il Presidente, è una sfida che tutto il territorio deve raccogliere e fare propria soltanto attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori territoriali, sia come amministrazioni pubbliche che come privati, operatori turistici e istituzioni scolastiche che si possono raggiungere traguardi ambiziosi. Da parte mia, conclude il Presidente Accetta, sosterrò concretamente tale iniziativa inserendo la candidatura di Padula quale punto di forza del territorio in tutti i documenti della nuova programmazione 2021-2027 e nella prossima riprogrammazione di risorse e interventi della strategia per le aree interne. Cambiamo argomento, una farmacia innovativa è ripensata adeguandola alle esigenze della comunità e non solo. Ieri sera nel centro storico di Montesano sulla Marcellana il dottor Vincenzo Spinelli ha inaugurato la sua nuova farmacia. Vediamo il servizio. Ieri sera a Montesano sulla Marcellana il dottor Vincenzo Spinelli ha inaugurato in un momento di festa e convivialità la sua innovativa farmacia dando il via ad un percorso che vedrà la figura del farmacista rivestire un ruolo nuovo all'interno della comunità, come ha spiegato lo stesso dottor Spinelli. Qui potranno trovare dei professionisti, delle persone serie, valide, che mettono al primo posto la salute del cittadino ed ecco come penso io la farmacia non deve essere soltanto un luogo dove entrare, comprare il farmaco ed uscire, ma anche un luogo dove entrare e raccontare un proprio problema e trovare un'assistenza anche morale da parte del farmacista. Un amico, un confidente, prima che un consulente sanitario. Ecco come il dottor Spinelli interpreta il suo ruolo all'interno della comunità e per far sì che questa immagine venga ben percepita dai suoi clienti ha previsto per loro una serie di servizi innovativi e che peraltro consentiranno anche di portare a Montesano un nuovo flusso di persone. Obiettivo garantire il benessere fisico e mentale della persona e venire anche incontro alle esigenze di chi ha difficoltà a spostarsi. Negli anni la farmacia si è evoluta tantissimo ed è in evoluzione di anno in anno. Si è parlato da tempo di farmacia dei servizi ma spesso non si usufruisce dei giusti servizi. Ecco per me la farmacia deve essere il primo presidio medico sanitario. Nei nostri paesi soprattutto dove i cittadini sono distanti da ospedali, da pronto soccorsi. Quindi il farmacista insieme al medico di base con cui deve collaborare assolutamente quotidianamente è proprio una figura fondamentale per il cittadino. Quindi per me la farmacia è sinonimo non solo di salute legata sia al farmaco ma di salute anche legata al benessere sia fisico ma anche soprattutto mentale. Infatti non so se hai notato all'ingresso della mia farmacia c'è un biobar, qualcosa di nuovo in queste zone dove noi faremo provare i nostri prodotti biologici, le nostre tisane, i nostri drenanti soprattutto per questo periodo estivo. Io sono specializzato in omeopatia, in fitoterapia in cui credo tantissimo. Quindi prima di andare a catapultarci nel mondo dei farmaci io spero di coinvolgere il paziente prima in un altro percorso. Percorso basato sulle piante, sui fitoterapici quindi parliamo di effetti collaterali zero e per me questo deve essere il ruolo del farmacista nel nostro territorio. Già trovare nella farmacia sotto casa operatori del benessere, trovare una persona, un professionista che può fare delle analisi del sangue, delle urine con i referti in 5 minuti. Ecco io farò un tipo di elettrocardiogramma innovativo, si parla di un elettrocardiografo con tre elettrodi dove io posso andare, recarmi anche a casa del paziente che non può muoversi, farglielo e oggi si parla di telemedicina, con la telemedicina in 30 minuti massimo un'ora uno specialista, un cardiologo ti dà il referto. Tantissime le presenze ieri sera per l'inaugurazione a cui ha preso parte anche il sindaco Giuseppe Rinaldi che per l'occasione ha ringraziato anche la precedente farmacista dottoressa Amato ed ha soprattutto voluto elogiare il lavoro del dottor Spinelli e ringraziarlo per aver voluto investire e puntare con la sua farmacia innovativa proprio su Montesano sulla Marcellana. Cambiamo argomento, oltre la metà dei negozi della Campania resterà aperta a ferragosto, lo afferma uno studio di Confessercenti Campania. I dettagli. Oltre la metà delle aziende della Campania, il 52% nei settori di abbigliamento, ristorazione, bar, supermercati e parrucchieri resterà aperta a ferragosto e quanto emerge da uno studio di Confessercenti Campania, secondo cui rispetto allo scorso anno non possono permettersi di andare in vacanza ad agosto il 9% in più dei negozi di abbigliamento, il 17% in più nella ristorazione e il 21% in più nei bar. La crisi è assoluta, afferma il presidente di Confessercenti Campania Vincenzo Schiavo e molti imprenditori della Campania non possono permettersi le ferie, magari mandano anche i propri dipendenti in vacanza ma sacrificano se stessi per tentare di recuperare l'enorme vuoto provocato da lockdown. Il dato di apertura a oltranza delle attività commerciali ovviamente diminuisce sensibilmente nelle zone a minor vocazione turistica ma in generale il 52% di apertura senza ferie è emblematico. Nel giorno di ferragosto ad esempio il 66% delle attività di ristorazione e il 10% dei negozi di abbigliamento resterà aperto in campania. Si prospetta però, secondo Confessercenti, una seconda parte del mese di agosto più confortante per le aziende del settore turistico, anche per via dei provvedimenti contenuti nel decreto di agosto, tra cui la sospensione dei mutui, la cancellazione del limo per gli albergatori, il sostegno alle agenzie di viaggio e alle guide turistiche. Sono state ottenute inoltre, conclude Schiavo, grandi opportunità a fondo perduto. È necessario ora che le aziende sfruttino queste chance, riscrivendo insieme la nuova visione del turismo in un sistema globale che è cambiato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, ci ritroviamo tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con il nostro telegiornale, pubblicato un avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per il recupero e la valorizzazione del complesso immobiliare Scialandro a Montesano sulla Marcellana. Vediamo. Il comune di Montesano sulla Marcellana ha pubblicato un avviso per l'attivazione di una indagine esplorativa finalizzata all'acquisizione di manifestazioni di interesse contenenti soluzioni tecnico-gestionali per il recupero e valorizzazione del complesso immobiliare Scialandro situato nell'omonima località di Montesano. Il termine per la presentazione delle proposte è fissato alle 13 del 15 ottobre prossimo. Si tratta di una indagine precisano dal comune, non vincolante per lente, i soggetti che risponderanno all'avviso avranno una posizione di vantaggio o di prelazione nell'ambito di future procedure di assegnazione e concessione. L'iniziativa rientra nelle azioni volte a recuperare e valorizzare immobili di proprietà comunale al fine di avviare progetti per lo sviluppo di attività economiche, turistiche e sociali con positive ricadute occupazionali nella comunità locale. L'indagine ha spiegato il primo cittadino fondata sulla concretezza economica, sul profilo funzionale e gestionale coerente con la pianificazione comunale, sulla qualità architettonica formale e un'iniziativa, se vogliamo, estrema e anche coraggiosa per cercare tutte le soluzioni possibili nelle corde e possibilità di un'amministrazione affinché si superi l'attuale degrado. L'amministrazione comunale è disponibile accomodati d'uso, fitto, progetti di finanza e anche a valutare la cessione dell'immobile a partire da base d'asta di un euro. L'ente si riserva di richiedere il riconoscimento alla benemerenza di Filippo Gagliardi, fondatore dello Scialandro, e la realizzazione di un'arena Gagliardi, come prospettato durante un workshop architettonico tenutosi nel 2018 a Montesano. Il prossimo 23 agosto a Stanza è previsto un incontro di presentazione del progetto che vuole inserire il culto mariano nell'inventario del patrimonio culturale immateriale della campagna. Nel corso della serata si parlerà anche di Islam con l'incontro sul tema Mediterraneo, Islam, Cristianesimo e Democrazia. I dettagli. La tradizione mariana è tutto quanto concerne i riti religiosi che fanno parte della cultura del territorio occidentano da inserire nell'inventario del patrimonio culturale immateriale della campagna. E questo è il nuovo progetto a cui si sta lavorando e che vedrà i riti celebrativi legati al culto della Madonna della Neve di Sansa inseriti in questo percorso che sarà presentato il prossimo 23 agosto nell'incontro dal titolo Le giornate delle identità mediterranee a cui parteciperà l'architetto Carla Maurano, presidente di identità mediterranee, ed il professor Ferdinando Longobardi, docente dell'Università Orientale di Napoli. La tradizione mariana, le processioni, le reti di connessione culturale, antropologico e sociale che esistono da oltre mille anni tra le comunità del Cilento, quelle del Vallodidiano e della Valdagri, sono indiscutibilmente un patrimonio culturale di tradizioni vive trasmesse dai nostri antenati, espressioni orali, linguaggi, pratiche sociali, riti e feste, conoscenza e pratiche concernenti la natura e l'universo, persino fatto di artigianato tradizionale. È indiscutibile che questo patrimonio culturale immateriale è fondamentale nel mantenimento delle diversità culturali di fronte alla globalizzazione e la sua comprensione aiuta il dialogo interculturale e incoraggia il rispetto reciproco dei diversi modi di vivere, ma soprattutto è un patrimonio che va trasmesso di generazione in generazione. Siamo all'inizio di un percorso, commenta il sindaco di Sanza Vittorio Esposito. Stiamo lavorando per realizzare la rete antropologica legata alla tradizione mariana, con le processioni, le tradizioni ed i rituali che esistono da oltre mille anni tra le comunità del Cilento, quelle del Vallo di Diano e della Val d'Agri. Il primo obiettivo, continua, è candidare la tradizione antropologica legata alla Madonna della Neve a Sanza nell'inventario del patrimonio culturale immateriale campano. Successivamente il progetto dovrà per forza prevedere la costituzione di una rete di connessione tra Cilento, Vallo di Diano e Val d'Agri con il riconoscimento di questo grande patrimonio immateriale da parte dell'UNESCO, che ha tra i suoi obiettivi prioritari l'attuazione di misure atte a favorire la trasmissione del patrimonio culturale immateriale fra le generazioni. Per questo, nel 2003, continua Vittorio Esposito, ha adottato la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ratificata dall'Italia nel 2007, nella quale è previsto una serie di procedure per l'identificazione, la documentazione e la preservazione, la protezione, la promozione e la valorizzazione del bene culturale immateriale. Nel corso della serata si parlerà anche del tema mediterraneo, Islam, cristianesimo e democrazia. Il 17 e 18 agosto recuperiamo la due giorni di teatro, danza, musiche e visite guidate annunciano dal Polla Folk Fest. Sono queste le due date in cui si terrà la Kermesse in programma lo scorso weekend dell'8 e 9 agosto, ma annullato per lutto. La tragica scomparsa del giovane concittadino pollese Antonio Zienna a seguito di un incidente stradale la sera del 3 agosto. Sono state decise le nuove date. Il Polla Folk Fest si tiene il 17 e 18 agosto. La nuova registrazione obbligatoria, i ticket già acquistati per i giorni 8 e 9, non avranno alcuna validità, fanno sapere gli organizzatori. Oltre agli spettacoli di musica e teatro, il programma prevede visite guidate a cura dell'associazione Lilium, preseduta da Teresa Calvino, che invita tutti a partecipare. Resterai piacevolmente meravigliato dai luoghi, dalla storia, dall'arte e dai tanti piccoli aneddoti curiosi. Vi aspettiamo. Le visite, sottolinea, partiranno con un gruppo minimo di 5 persone, massimo di 10 a giro. Il contributo è di 3 euro a persona, ad eccezione dei bambini. La mascherina è obbligatoria. Ed è la prima volta da 26 anni che a Teggiano in questi giorni non ci sarà la Kermess alla tavola della Principessa Costanza. La Proloco vuole comunque dare un segnale e prepara tante sorprese. Vediamo. Per la prima volta dopo 26 anni, l'11, il 12 e il 13 agosto non si tiene a Teggiano alla tavola della Principessa Costanza. La pandemia ha impedito lo svolgimento della 27esima edizione. Nessun corteo storico, dunque, a Teggiano. Nonostante tutto, la Proloco vuole ugualmente dare un segnale. Abbiamo addobbato comunque la piazza, spiega il presidente Biagio Matera, con le bandiere e con gli ornamenti tipici della nostra tre giorni. È un modo per evidenziare che anche se quest'anno la pandemia ha impedito lo svolgimento della Kermess, Costanza resta nel cuore di tutti i tegianesi. In questo contesto rientra anche l'altra iniziativa organizzata a Teggiano, presso il Chiostro di San Francesco. Diamo spazio all'arte, sottolinea il presidente Biagio Matera, con una mostra molto evocativa, attraverso la quale è ripercorsa con bellissime immagini la storia della Kermess. Immagini di una festa è il titolo della mostra, che prevede tre sezioni, tutte suggestive. 26 anni di Principessa Costanza, con le fotografie di Grado Anselmo Capozzoli, i volti della Principessa Costanza, con le foto di Mario Capozzoli e i colori di una festa, con i disegni e le grafiche di Cono Giardullo. L'inaugurazione è in programma oggi alle ore 19, alla presenza tra gli altri del sindaco Michele Di Candia, del parroco Don Giuseppe Puppo e del presidente della Proloco. La mostra sarà visitabile fino al 13 settembre. È sempre nella giornata di oggi, è previsto un altro evento virtuale, una sorpresa, la pubblicazione sui social di due diversi video che racchiudono La Magia della Kermess, realizzati appositamente per l'occasione. Una Costanza Special Social Edition 2020, che la Proloco Teggiano vuole dedicare ai tantissimi fan della Principessa Costanza in tutta Italia e non solo, che quest'anno non possono recarsi a Teggiano. L'appuntamento per la prima visione è per le ore 18 sulla pagina Facebook alla tavola della Principessa Costanza per il primo video e alle ore 18 e 30 per il secondo. Questa sera ultimo appuntamento con Melelle in festa all'agriturismo Orchidea Sassano. Il maltempo ha obbligato gli organizzatori ad annullare la serata di ieri e stasera si conclude con prelibatezza e buona musica. Questa sera quindi ultimo appuntamento della suggestiva e allegra iniziativa promossa presso l'agriturismo Orchidea. Luogo incantato e dalla magica atmosfera situato in località Melelle, verso la Valle delle Orchidee a Sassano. Oltre ad un ampio spazio allestito nella parte esterna della struttura è possibile anche prenotare un tavolo nella suggestiva terrazza dove sarà possibile degustare le ottime specialità biologiche dalla qualità attentamente controllata in una magica atmosfera allietata dalla musica di Agostino Lacava e la sua band. Una serata speciale in mezzo alla natura degustando tantissime specialità. E con questo bel appuntamento è tutto, grazie per averci seguito, continuate a restare con noi. A tutti un'ottima serata.